100% nuove di zecca di alta qualità, ultra sagomati, estremamente comodo.il 95% di cotone, 5% elastane Una gonna Audrey Hepburn molto elegante e classica, retro disegnata dal marchio Vernassa, gonna a ruota a forma di A, abito svasato a tutto tondo, cerniera invisibile. Ci sono 15 stili in totale. Affascinanti pois e plaid, motivi stampati. Oltre al classico colore nero, ci sono altri colori, come il vino rosso, rosa, viola, verde, blu, blu marino. È la scelta migliore per feste multicolori e matrimoni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.